Il Santo del Giorno 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 E adesso vediamo subito i giornali Il Corriere Adriatico Il Resto del Carlino Le edizioni principalmente di Pesaro e Urbino Allora però prima dei giornali Voglio farvi vedere questo cartello Perché oggi è un giorno per noi molto speciale Per tutti quelli di Fano TV Che lavorano qua Ma soprattutto Anche per coloro che ci seguono Perché oggi è il nostro compleanno Oggi Fano TV Compie 14 anni Era il 2005 Quando abbiamo iniziato le trasmissioni Allora Corriere Adriatico Le tariffe restano invariate Scrive Titola L'edizione di Pesaro Del Corriere Adriatico Dicevamo Siglato l'accordo tra il Comune E i sindacati Sul bilancio 6 milioni per le opere pubbliche A centro pagina Passano dal tetto E fanno razzia di abiti Terzo furto In un mese e mezzo Ai danni della Santendrius È un'azienda che produce abiti A bellocchi di Fano Per gli inquirenti È la stessa banda di ladri Che ha agito appunto In poco meno di due mesi Per tre volte consecutiva Hanno rubato abiti Per circa un centinaio di migliaia di euro Rinascita post sisma A Castel Sant'Angelo Ricostruzione in dieci anni Ma l'Archistar è già al lavoro Tre anni dopo il sisma A Castel Sant'Angelo Sul Nera Ricostruire non è più Un solo verbo declinato All'infinito È una speranza Pure se a lunghissimo termine Almeno dieci anni Se tutto andrà bene Ma comunque Uno squarcio di luce Su questo paese Raso al suolo Dal sisma del 2016 Adesso c'è E ieri è stato siglato Un protocollo d'intesa Per il gruppo tecnico Che si occuperà Del piano attuativo Per la ricostruzione Che avrà la firma Dell'Archistar Stefano Boeri Siamo sulla pagina Sempre prima pagina Del Corriere Adriatico In fondo Capo ralato Al ristorante La procura Congela beni Per oltre 150 mila euro Alla titolare cinese Del Sushitao Di Campanara Sequestrate i conti E mezzi Poi eroina E armi nascoste a Pesaro Fuga E arresto In Romagna Il resto del Carlino Puliscono i bambini Questa è la fotonotizia Di un centinaio di ragazzi Alla Baia Flaminia Per raccogliere plastica E affini L'operazione Cotton Fioc Organizzata dalla scuola Lighieri Assieme al Parco San Bartolo A tutti in regalo Borracce e Inox Per educare al riuso E a Fano Crescono gli spazzini Volontari Hanno vinto i pompieri 14 in più Nell'organico Dal 23 dicembre Operativi rinforzi Scongiurata la chiusura Di alcune caserme I sindacati Dicono boccata di ossigeno Per tutti E lo sport Lo sport Con il basket Arrivato Williams Primo allenamento Oggi all'Arena L'americano che deve Salvare In qualche modo La VL Mentre la Serie C Sapete In sciopero Vis e Fano Dunque Non giocheranno Le loro gare Le loro partite Mentre Alla Sant'Endulis Anche qui viene ricordato Questo terzo furto In poco più di un mese Tornano i ladri Via con i capi Griffati E poi sotto Primario A riposo L'abbraccio Di tanti pazienti A riposo Ci va Già Maria Fiorentini Che lascia dunque Marche Nord Ha diretto per anni Il reparto di cure palliative Andrà in un centro Sanitario di Ravenna E poi Il Carnevale di Fano Che ieri ha presentato Il suo programma Di massima Sfruttando anche Il periodo di Natale Quindi anche I turisti Che vengono in città O comunque Dalle nostre parti Per trascorrere Appunto Le festività natalizie E il Carnevale Ha annunciato La sua novità Del 2020 Cioè una sfilata Notturna Ci sarà un sabato In cui si sfilerà Anche se non sarà Così come lo Vediamo la domenica Sarà tutto Molto più Ridotto Con dei carri piccoli Con delle mascherate Che partiranno dal Pincio Fino alla piazza Il Carlino di Ancona Regalo di Natale Per chi Per il geometra Del comune Arrestato Qualche settimana fa Lui confessa E dunque È stato scarcerato Ed era finito in manette Per corruzione Corso antincendio Invece Per i baby piromani Così ha deciso il giudice Per quei minorenni Che nel 2017 Causarono il maxirogo Nel parco di Posatora Falconara Ricorderete L'autovelox Senza cuore Senza pietà Annullate le prime multe Accolti dal giudice Di pace 10 ricorsi Mentre C'è chi vuole andare Non solo in Romagna Dalle Marche Ma anche in Umbria Fabriano Fabriano Sta pensando All'annessione all'Umbria Nasce un comitato Contro il depotenziamento Dell'ospedale E in ritardi Per la statale 76 E dunque stanno organizzando Un referendum Il carriero di Macerata Abuse in corsia Via l'infermiere Licenziato Un dipendente Dell'ospedale di Macerata Perché è accusato Di aver violentato Una paziente di psichiatria A centro pagina Invece Al campus Delle casermette Da lunedì Modifica il traffico Prove su strada Questa è la fotonotizia Entriamo subito Nelle pagine interne Questa è la pagina Di Fano Del Corriere Adriatico I ladri sono passati dal tetto Per rubare 80 abiti di qualità Terzo colpo in un mese Alla Centendrius Con modalità diverse Ma forse ad agire La stessa banda Il colpo a segno Tra lunedì e martedì Le telecamere Riprendono Tre individui Con il volto coperto Aveva in casa Un chilo di droga Scena muta Davanti al giudice Convalidato all'arresto Il 23enne Dunque resta in carcere Consiglieri al teatro romano Ma il sì è slittato Quello sull'acquisto Dell'area È saltata Ieri sera infatti La seduta Del consiglio Tutto rinviato Alla convocazione Di oggi La maggioranza Non garantisce Così il numero legale E le opposizioni Escono dall'aula E le minoranze Appunto Sono ironiche Su questo Su questo fatto Del mancanza Del numero legale E parlano Di pacco Di Natale Sotto invece Di taglio basso Nuovi stalli blu Anche qui Polemica Su polemiche Ma Intanto L'assessore Fabiola Tonelli Che è finita Nel centro Nel mirino Dei commercianti E Dell'opposizione Riscuote Il consenso E non poteva essere Altrimenti Degli ambientalisti Infatti In cassa Il primo Sì di lupus In fabula Se si vuole Incentivare L'uso Della bicicletta Dicono Gli ambientalisti Bisogna favorire La mobilità Pedonale Liberare il centro Storico Da centinaia di auto Che girano a vuoto Alla ricerca Di un parcheggio Le soluzioni Prospettate Dunque Sono inevitabili Sottolinea La lupus In fabula Che quindi Dà qualche consiglio All'assessore Tonelli Carnevale Sul carro C'è posto Anche per Povia Povia E' quel cantante Che molti Magari adesso Non Il cui nome Non dice Granché Ma se dico Quello che cantava I bambini Fanno Probabilmente Direte Ah sì Adesso Lo ricordo Eccolo qua Povia E' questo Cantante Questo signore Che ho cerchiato In questo momento Mentre qua a fianco Il comico Mezzancella Che sarà uno Dei Protagonisti Delle domeniche Di carnevale Con In questa fotografia Belen Però chiaramente Belen Non è invitata Al carnevale O meglio Se vuol venire Può venire Ma non è Non rientra nel budget Della carnevalesca Carnevalesca Che vedete in questa fotografia Con al centro Maria Flora Gian Marioli Che ieri Ha presentato Come dicevo Il programma Anticipato Un po' Quello che potrebbe essere Il programma di massima Del carnevale Che ci sarà Il 9-16-23 febbraio 2020 E come novità Come dicevamo La novità di quest'anno È la notte dei colori Che in programma Sabato 15 febbraio Quindi una sola sfilata In notturna Che sarà un po' Un test Anche per vedere Come andrà Dove si potranno Effettuare Così come dicono loro Sconti Promozionali Ai clienti Che in abiti Carnascialeschi Cioè vestiti Mascherati Andranno a fare acquisti Nei negozi Che per l'occasione Sabato sera Sabato 15 Saranno comunque aperti In corso Matteotti Perché questa sfilata Partirà dal Pincio E terminerà in piazza 20 settembre Poi Tra i comici Che verranno appunto Al carnevale In queste tre domeniche Spopolano quelli televisivi Antonio Mezzancela Come abbiamo detto E anche Diego Parassole Insomma I nomi non sono Altisonanti Come potevano essere Stati nel passato Insomma Però ecco La carnevalesca Ha deciso di Comunque invitare Ogni domenica Un personaggio Il tema di quest'anno Sarà l'ecologia Blitz in consiglio Non passa il caro parcheggi Manca il numero regale La delibera dunque Resta in stand by Ieri c'erano delle delibere Abbastanza importanti Si doveva deliberare Sull'acquisto Della filanda Dove c'è il teatro romano Il bilancio di previsione Del teatro della fortuna La modifica Del contratto di servizio Tra il comune E l'aset Con l'installazione Appunto Dei 400 nuovi Parcheggi a pagamento Insomma Delibere Importanti Dicevo Che però Non sono state approvate Per la mancanza Del numero legale Che insomma Poco male Nel senso che comunque Tutto verrà Ridiscusso Nel consiglio comunale Di questa sera Cora fattori Intanto Nello scambio di accuse Dice l'opposizione Fa ostruzionismo Loro invece Replicano E' falso Noi c'eravamo Tutti quanti Sul teatro romano Nuova copertura Slitte il voto Sull'acquisto Abbiamo visto Ieri pomeriggio Nell'area degli scavi Archeologici C'è stata questa Questa commissione Un po' di gente Di maggioranza Di opposizione I giornalisti C'erano un po' tutti Ieri Per vedere Questi scavi archeologici La compravendita Però ancora Non è andata in porto Ma tutto comunque Dovrebbe essere abbastanza Certo Blindato E sicuro Via le barriere Architettoniche Invece sono 23 anni Che le Studiamo Siamo alla farsa La giunta Annuncia un tavolo di lavoro Per capire come fare Il censimento Delle barriere architettoniche Così qualche giorno fa Aveva tuonato online Luciano Benini Che 23 anni fa Da assessore Proprio alle politiche sociali Aveva mappato tutti I nodi cruciali Da risolvere in città Ma dopo Avere abbattuto Qualche decine di barriere Era cambiata giunta E poi nei vent'anni successivi Praticamente Non si è mosso Più nulla E bene comune Dice all'assessore Tonelli Basta con l'inesimo tavolo Qui bisogna fare qualcosa Ormai le abbiamo già mappate Queste situazioni Si tratta soltanto di agire A proposito di digestore anaerobico Leggete un po' questo titolo Biodigestore Non a Monte Schiantello Non è la prima volta Che da San Costanzo Mettono le mani avanti E dicono A quelli di Fano Mettetevi l'animo in pace Trovate un posto là Dalle vostre parti E non pensateci nemmeno A costruire un digestore Nella discarica Di Monte Schiantello La consigliera Laura Druda Che vedete nella fotografia Ha presentato un ordine del giorno Proprio sul biodigestore E il consiglio comunale Tra l'altro è tutto compatto Quindi sono tutti Della stessa idea Va anche bloccato Dicono l'ampliamento Della discarica Non si può ragionare Solo sul profitto La zona collinare In questione Al confine tra i due comuni Quindi quello di Fano E quello di San Costanzo È totalmente Dicono Inidonea Un milione Sulle strade Arriva la rotatoria Colli al Metauro L'opera prevista All'uscita della superstrada Sarà realizzata a primavera Questa è un'opera interessante È un'opera importante Perché anche lì Insomma Ci sono diversi incidenti Spesso E quindi è importante Che ci sia questa possibilità Lì lo spazio c'è I soldi Solitamente si trovano Quando è così E quindi È attesa Infatti come scrive Il giornale È attesa da lungo tempo E dunque All'uscita Della Della superstrada A Calcinelli Ci sarà questa Rotatoria importante Che servirà Anche a gestire meglio Il traffico Di scariche usate Per generare utili Ma la regione Boccia Questa logica I risvolti Del documento Approvato a San Costanzo Per dire no A Monteschiantello Il consiglio unanime Contro l'ampliamento Dell'impianto E la scelta Del sito Per il Digestore Il carrevale Sfilerà Anche di sabato sera Siamo sempre sul Corriere La novità Annunciata per il 15 febbraio Gruppi mascherate Piccoli carri In centro Anche con il Getto Per quanto riguarda La costruzione invece Delle nuove scogliere Sempre a Fano C'è stata L'apertura Delle buste La gara è stata vinta Da una ditta Di Napoli Queste scogliere Verranno Verranno Realizzate Nel mare Antistante Alla spiaggia di Sassonia Di fronte Ai bagni Maurizio E in località Bersaglio È un intervento Che rientra Nel più ampio Accordo di programma Per la mitigazione Del rischio Idrogeologico Finanziato Dalla regione Marche E ha vinto Questa FT Costruzioni SRL Di Napoli Con un ribasso Del 20% Adesso Ovviamente Gli uffici preposti Come ha detto L'assessore Ai lavori pubblici Cristian Faresi Dovranno Controllare Fare tutte le verifiche Previste dalla legge Su questa ditta Che ha vinto Dopodiché Se tutto andrà bene Ci sarà l'esito Positivo Favorevole Si procederà Con la giudicazione Definitiva Ancora dai giornali Puliamo Fano Questa è la fotografia Di questo gruppo Nato spontaneamente Su Facebook Che da diversi mesi Si ritrova In giro per la città Per raccogliere i rifiuti Ne hanno raccolti Ormai A quintali C'è un altro appuntamento Che si sono dati Questi ragazzi Per domenica prossima Vaia del Re Il ritrovo è alle ore 14.30 Nel parcheggio Di un ristorante Che sta lì di fronte E quindi Insomma Tutti coloro Che in qualche modo Vogliono partecipare Sanno Ecco Qual è l'appuntamento Caporralato Al ristorante di Sushi Invece qui a Pesaro Sequestrati Conti Correnti E mezzi Bloccati beni Per 150.000 euro Quanto ricavato Illecitamente Dallo sfruttamento Dei lavoratori Mentre Rocca Costanza Sotto In cantiere La seconda uscita Di sicurezza L'obiettivo è Ottenerne dal demagno La gestione diretta Di una parte Un Natale Nero Invece Per i dipendenti Della ITEM La società opera Nell'ambito Delle telecomunicazioni Ed ha la base provinciale In via del Bersaglio Da due mesi Sono tutti Senza stipendio D'Antonio Del sindacato Will Non si parla Con nessuno Ed abbiamo chiesto Un tavolo regionale Di crisi Sant'Andrius Rubati abiti Per 100.000 euro Ladri Ancora una volta Nell'azienda Del lusso Grifato A bell'occhi Edino Zacchilli L'uomo vitruviano Succede La presidenza Del centro studi Paolo Clini È invece Coordinatore Scientifico Belle e buone Nelle poesie Di Lodovichetti Dalla vendita Dell'opera In vernacolo Un progetto Per i bambini Malati Badante Porta via 16.000 euro Ad un anziano A processo È finito Un rumeno Accusato Di circonvenzione Di incapace E qui siamo Nella cronaca Extra provincia Di Pesero Siamo a Cessa Palombo Nella pagina Di Cingolo E Tolentino Dicevo A processo C'è finito Un romeno Accusato Di circonvenzione Di incapace L'uomo Avrebbe prelevato I soldi Al bancomat E allo sportello Postale In tutto Come diceva Appunto 16.000 euro E il pensionato Che accudiva Era in condizioni Non buone Dal punto Di vista Psichico E si giustifica Così Il tossico Dipendente Che è stato Arrestato L'altro giorno Dopo aver Rapinato Una farmacia A Pesero Ho fatto Una stupidaggine E il rapinatore Va in carcere Il giudice Sul 21enne Tossico Dipendente È un pericolo Il giudice Deve Prendere coscienza Di ciò Che ha fatto E lo ha fatto Di fronte Appunto Il giudice Che poi L'ha mandato In carcere Ha ripercorso I momenti Della rapina Che ha compiuto Domenica Con in testa Uno scopo Ben preciso Avere i soldi Ovviamente Per comprarsi Le dosi Di eroina Ieri mattina L'interrogatorio Di garanzia Di questo Ragazzo Di 21 anni Che domenica Era uscito Da una comunità Di recupero Per tossicodipendenti Per andare Alla farmacia Si rendono conto Scritti Scritti contro La questura Il campus Scolastico Sono intervenuti I sindacati Di polizia Anche per Stigmatizzare Il gesto Parole Come Sei bella Come la questura Che brucia O Ancora Ne bianco Ne nero Poliziotto Unico straniero Sono apparse Sui muri Lo scorso Fine settimana Davanti a queste scuole Creando anche Un certo Sconcerto E anche Le dure parole Di condanna Del preside Del liceo Marconi Un gesto Isolato Ha parlato Di gesto Isolato Di quattro Idioti Perché Non troviamo Altre definizioni Per chi compie Tali bravate Dice Per Paolo Frega Del SILP CGL Dove la punizione Esemplare Se mai fosse possibile Sarebbe passare 10-15 giorni In compagnia Dei poliziotti A capire I disagi Che il mondo Penso che basterebbe Anche una notte Una di quelle notti Che passano Il fine settimana Appunto Gli operatori Delle forze Dell'ordine Al posto di andare A bere in discoteca La passano con loro Poi vedrai Vedrai come gli passa La voglia Si spoglia davanti A due donne Ed è stato bloccato Paura nel chiosco I carabinieri Sono subito intervenuti Siamo a Senigallia E hanno rintracciato L'uomo Grazie alle segnalazioni Di un edicolante Era in preda Ai fumi dell'alcol E quindi si è spogliato Si è spogliato E successo Intorno alle 19 Velocemente Annullate le prime multe Dell'autovelox A Falconara Via la scritta Ingresso Da Palazzo Ducale Sgarbi Dice quel cartello Che è stato voluto Da Ofreiter Che adesso non c'è più È una umiliazione Per Francesco Di Giorgio Martini Il neodirittore Pierini Dice Sgarbi Adesso Rimuova quel cartello Cantieri pronti A San Silvestro L'ondè in pressing Sul comune Sempre da Urbino E poi pronto soccorso L'attesa a Pesaro È troppo lunga Studio della Scuola Superiore Di Sant'Anna Di Pisa E poi Fiorentini Va in pensione Pioggia di grazie Da parte dei suoi pazienti Vigili del Fuoco Sono pronti Rinforzi Ne arrivano 14 Prenderanno servizio Il 23 dicembre Siamo ancora sotto organico Ma abbiamo scongiurato Dicono gli accorpamenti E poi la fotografia Per i nonni vigili Premiati nella sala rossa Del comune di Pesaro Sempre da Pesaro Irpef Etari Restano Invariate E poi da Monte Ciccardo Buco da 650 mila euro Cancellieri dice Ora Massimo Risparmio Da Fossombrone Nuovo investimento Notturno Attraversamento Pericoloso Segnalazioni Per il passaggio Pedonale Sulla Flaminia Sprovvisto Di illuminazione Tanti pacchi dono Da Mondolfo Con buoni spese E giochi Nel nome di Sant'Andrea Consegnati al comune Per le famiglie In difficoltà E con il cartello Che annuncia Il compleanno Oggi Di Fano TV Chiudiamo qui La nostra rassegna stampa Grazie per averci seguito Ci vediamo stasera Alle 20.30 Con il telegiornale Occhio alla notizia Arrivederci La nostra rassegna Per le famiglie Grazie a tutti.